Grande fratello VIP, Totti protagonista della prossima edizione, il 28 maggio 2017 è un giorno che tifosi di calcio non dimenticheranno facilmente, soprattutto quelli che tifano a Roma. Il capitano della Roma Francesco Totti ha infatti lasciato ufficialmente la sua squadra con cui ha giocato per ben 24 anni. Il suo addio ha fatto il giro del mondo e ora tutti si domandano quale sarà il suo futuro. Stando alle ultime notizie, il campione giallorosso potrebbe inserirsi nel mondo dello spettacolo, partendo dal grande fratello VIP insieme alla moglie Ilari Blasi, confermata come conduttrice anche per l'edizione 2017 che prenderà il via settembre. Prima parte. Ilari chiama il marito. L'addio di Francesco Totti al calcio e alla Roma, unica squadra e città che abbia mai chiamato, ha segnato la fine di un'era partita nel lontano 1993. Il 28 maggio 2017, il capitano della squadra giallorossa ha salutato per l'ultima volta i suoi tifosi che per 24 anni lo hanno accompagnato in ogni battaglia, condividendo gioia e dolori. Uno scenario fantastico ed emozionante che ha commosso tutto il mondo, persino i non appassionati di calcio che hanno ammirato l'affetto di un campione verso la sua squadra e la sua famiglia. Il suo addio è stato celebrato da ogni testata giornalistica e ora tutti si chiedono quale sarà il futuro di Totti. Seconda parte. I fan fremono per vedere il loro bignamino in tv. Per molti, il numero 10 resterà nell'ambito sportivo, forse dirigente della Roma, per altri, invece, potrebbe inserirsi nel mondo dello spettacolo partendo dalla prossima edizione del Grande Fratello VIP. L'esperienza nel mondo dello spettacolo, infatti, Totti ce l'ha e come. In occasione della scorsa edizione del Grande Fratello VIP, Francesco Totti sorprese tutti entrando nella casa più spiata d'Italia. Il simbolo di Roma, con la complicità della moglie Ilari Blasi, riuscì a conquistare tutti grazie alla sua vena autoironica che da sempre lo contraddistingue. Ultima parte. Nel futuro di Totti una possibile co-conduzione con la moglie Ilari. Successivamente, Totti ha avuto modo di partecipare anche all'ultimo festival di Sanremo condotto da Carlo Conti e Maria De Filippi, dove divertì il pubblico con le sue battute e i suoi siparietti. Per tutti questi motivi, il capitano della Roma potrebbe provare una nuova esperienza televisiva. Si tratterebbe un vero e proprio esperimento, quello di entrare nel cast della seconda edizione del GF VIP, sempre in compagnia della moglie, conduttrice del reality. Successivamente, per lui potrebbero aprirsi le porte per la co-conduzione o per il ruolo di inviato, proprio come successo al collega Stefano Bettarini. E voi, cari amici lettori, vorreste vedere Totti in questa nuova veste, chi altri, insieme a lui, vi piacerebbe vedere nella casa del grande fratello VIP?